Un'ottima salute e questo immagino sia per l'esempio di frequentazione della nostra azione. E certo il suo profilo noi potremo andare d'accordo su tutti, sul calcio no, quello è l'unica cosa sulla quale avremo dei problemi oggettivi. Ma al metto di questo e dello scherzo sull'argomento, l'approccio che lei ha, la sua capacità di incidere su questi temi è nota con grande intelligenza che ha dimostrato anche oggi frutto dell'esperienza che ha avuto nella vita. Noi apprezziamo ovviamente l'approccio della discussione perché con la Commissione del governo non abbiamo nessuna intenzione di frapporre delle barriere comunitativi, anzi al contrario vogliamo implementare un approccio ragionevole. Pensiamo come governo di poter fare insieme, quindi grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie a tutti e a tutti, forza a Roma, arrivederci. Grazie commissario.